Cioè io non voglio umiliarti, perché per me il denaro non vale la pena, per me la questione di Bugo è un'altra, non è legata al denaro, sono cose di ideali, sono dei valori che non hanno a che fare col denaro, sono dei valori di rispetto, di lealtà, di amicizia, di tradimento, di verità, di bugia, sono altri parametri.